Il Lecce ritrova i tre punti dopo lo stop interno nel turno infrasettimanale contro il Cittadella. Tre punti che permettono ai giallorossi di ritrovare il primo posto e allungare in classifica su Como e Pisa. Baroni punta su Elgason a centrocampo preferito a Maier nel Monza, Valoti, vince il ballottaggio con Dani Mota. Pronti via e già al sesto il Lecce va vicino al gol con il palo colpito dalle Stoschi. La conclusione del Polacco batte tutti tranne il montante alla sinistra di Di Gregorio. La partita è spigolosa ma sono i salentini ad avere le occasioni più importanti come al venticinquesio quando sempre di Stoschi trova il gol del vantaggio dopo una respinta corta del portiere Brancorosso che però nell'occasione è stato toccato da Gargiulo. Reo di essere intervenuto con il piede al mattello, il VAR interviene e annulla. La prima occasione marchiata Monza arriva in pieno recupero con Molina ad un passo dalla porta che non trova la coordinazione giusta per ribadire in rete il pallone. Al 54esimo Elgason sfugge alla marcatura di Paletta che però lo stende al limite dell'area di rigore dal dischetto, coda, non sbaglia e porta in vantaggio il Lecce firmando il 14esimo gol di questa stagione. Un minuto dopo è Donati, Lex a provarci con un destro potente che però si perde al lato ma l'opportunità più ghiotta capita sui piedi di Macin che dopo un bel dribbling in area non trova lo specchio per un soffio. Al 77esimo serve un super intervento di Gabriel per dire no al tentativo del neoventato Gijker. L'estremo difensore brasiliano con la mano sinistra respinge la conclusione del polacco. Mette il Monza a pressa, il Lecce nel recupero trova il 2-0 con Pablo Rodriguez. Lo spagnolo aveva ribadito in rete il tiro carambolato sui pali e la porta del Monza. La posizione però dell'ex del Real era irregolare. Finisce 1-0 per il Lecce che coppia un passo importante verso la Serie A e guadagna punti sul Brescia e sul Pisa fermati in questo turno di campionato e allora adesso è vetta insieme alla cremonese a quota 49 punti.